Cosa mi è piaciuto? Di quanto mi sono ritrovata cambiata e diversa. Questa cosa è iniziata sicuramente tanto tempo fa, ma dieci giorni, quindici giorni prima di questo evento, che peraltro mi ha sempre emozionato già dal momento in cui era stato proposto, mi sono ritrovata a essere praticamente un foglio bianco. Non provavo emozioni, non provavo preoccupazioni e non è da me perché generalmente io sono sempre stata una persona molto celebrale, quindi tutto sotto controllo, avevo bisogno di sapere che tutto funzionava come io pensavo fosse corretto. Invece sono arrivata qua e mi sono sentita un quaderno bianco. Ho detto fantastico, è tutto da scrivere nuovo e devo dire che la spettacolarità di questo evento per me è stato, mi sono trovata che la mente non mi governa più, ma è la mia vita. E questa è un'emozione fortissima e mi ha stupito perché non pensavo fosse possibile. Quindi ho sentito veramente cosa vuol dire vivere con la vita e non con la mente. La mente è solo una piccolissima parte e devo dire che in questo giorno e mezzo di lavoro non mi ha mai interferito, cioè mi accorgevo che lei non interveniva ed ero molto contenta. Nell'ultimo lavoro che abbiamo fatto invece è più volte intervenuta e allora ho fatto, come ci ha consigliato Patrizia, di coccolarla e dire non ti preoccupare, comunque tutto andrà bene e lei si è acquietata immediatamente. Per cui per me esco da qua che sono una persona diversa, una persona nuova e se ci riesco io ci possono riuscire veramente tutti. Quindi consiglio a tutti di provarci e poi sicuramente qualcosa succede. Grazie, grazie a tutti veramente, a tutti. Perché se è funzionato su di me, se funziona su di me, funziona su tutti. E devo dire che non avrei mai immaginato una cosa così semplice e così potente. Anche perché per me è sempre stato il pensare che tutto doveva essere difficile, un po' per credenze familiari dove mio papà mi ha sempre insegnato che tutto doveva essere faticoso. Quindi scoprire che in realtà i cambiamenti avvengono come una cosa così veloce e semplice per me è un regalo immenso, non potevo desiderare niente di meglio come regalo della vita. Grazie, grazie a Patrizia e grazie veramente a tutti voi, siete meravigliosi. Grazie, grazie.